Grazie dell'invito soprattutto a voi e grazie anche dell'evento che state portando avanti da tanti anni. Io avevo immaginato questo mio intervento in un modo che però ho deciso di cambiare in linea in corso d'opera sentendo gli interventi che ha fatto già chi è stato prima di me. Perché è importante, quello che volevo sottolineare a questo punto, è importante riuscire a individuare che cos'è la visione nel processo di elaborazione delle nostre informazioni, nel processo dell'atto motorio e quindi come deve essere interpretata la funzione visiva in un progetto diagnostico. Se non sappiamo come vede il nostro paziente probabilmente possiamo rischiare di non essere corretti o completamente esaustivi e impostare correttamente il successivo passo della parte riabilitativa, rieducativa. Quindi il primo passo è definire quella che è la visione. La visione viene spesso data per scontata come concetto, la visione è quello che ci mandano gli occhi, ma in realtà quello che mandano gli occhi, quello che riusciamo a vedere attraverso gli occhi non è il mondo fisico, non è il mondo della realtà, perché molto ci mette il nostro sistema centrale che elabora queste informazioni. Questa immagine che conoscete sicuramente tutti ci fa vedere un triangolo bianco sovrapposta a un triangolo e a tre cerchi, che in realtà non esiste. Il triangolo bianco è una costruzione del nostro processo percettivo, è la nostra visione di un mondo fisico che non c'è. Quindi che cos'è la visione? La visione è quindi un processo di elaborazione che si basa principalmente sull'input visivo. Se non ci fossero gli occhi non ci sarebbe visione, sicuramente, ma non è solo l'informazione che arriva dall'occhio. L'informazione che arriva dall'occhio deve essere integrata con l'informazione che arriva dal movimento. Dal movimento sia dell'occhio stesso, sia dell'occhio dell'individuo che si sta muovendo, sia del movimento dello spazio esterno. Muovere la testa senza muovere gli occhi non ci permette di apprezzare che cosa sta succedendo nel mondo esterno se non sappiamo che stiamo muovendoci in relazione. Quindi l'integrazione dell'informazione del movimento, del capo, del corpo, dell'occhio stesso ci permettono di capire come siamo collocati noi rispetto all'ambiente e come gli oggetti si collocano rispetto a noi. Le informazioni dal sistema vestibolare, le informazioni proprio occettive in generale, il canale uditivo è fondamentale per arrivare alla categorizzazione dell'informazione visiva. Gli stili cognitivi, i nostri stili, non tutti elaboriamo allo stesso modo le stesse informazioni. Sulle famose figure ambigue c'è chi vede la vecchia e chi chi vede la ragazza col volto di tre quarti. Quindi ognuno ha delle modalità sue di elaborare queste informazioni e l'elaborazione di queste informazioni produce la visione. Quindi la visione è l'output di un processo di elaborazione, non una rappresentazione del mondo esterno. Due note velocissime per capire alcuni concetti successivamente. All'interno del nostro occhio, all'interno della retina, abbiamo un punto particolare che è chiamato fovea e sulla fovea abbiamo la caratteristica di avere la massima nitidezza visiva, i famosi dieci decimi, quelli che un po' tutti conosciamo, il tabellone famoso con le letterine sempre più piccole. Bene, quella struttura che avete visto prima, la fovea, è la zona della retina che ha la massima acutezza visiva. Se un'immagine va a finire sulla fovea, noi riusciamo a riconoscerla anche nei minimi particolari. Se l'immagine è in periferia, noi quella immagine non la riconosciamo. L'esempio più eclatante, ad esempio se guardate me, con la vostra visione periferica riuscite a vedere lo schermo ma non riuscite a discriminare nulla di quello che c'è in periferia. Quindi perché noi facciamo una serie di movimenti con gli occhi? Per questi motivi, prima di tutto, se c'è un oggetto che ci interessa, un elemento che ci interessa, noi ruotiamo gli occhi per fare in modo che l'immagine di quell'oggetto vada a finire sulla fovea, in modo che noi abbiamo la possibilità poi di analizzare nel dettaglio i singoli elementi. Se poi l'oggetto però che abbiamo fissato si comincia a muovere, noi dobbiamo muoverci per mantenere l'oggetto sulla fovea e poi se entriamo in un ambiente nuovo che non conosciamo e vogliamo esplorare questo ambiente dobbiamo muovere gli occhi per esplorarlo. Ora tutte queste funzioni ci sembrano scontate come tante delle nostre competenze proprio perché le avvengono in maniera totalmente naturale, ma in realtà innanzitutto non è una funzione che è presente fin dalla nascita, ma si acquisisce attraverso un processo di maturazione, maturazione sia dal punto di vista neuroanatomico sia dal punto di vista di maturazione funzionale, sia perché in realtà questa visione che ci sembra così unitaria, questo è il percorso classico che ci sta su tutti i libri di anatomia, questa visione che ci sembra così semplice in realtà è molto più complessa, non è unitaria come può sembrare e non avviene a livello della corteccia occipitale come generalmente viene pensato in maniera ingenua, la corteccia occipitale è quella che viene chiamata la corteccia visiva, ora la corteccia visiva è soltanto l'area in cui avviene una prima fase di decodifica dell'immagine, ma in realtà le vie visive sono sostanzialmente due, adesso senza entrare nel dettaglio tecnico delle due vie che vengono chiamate magnocellulare, parvocellulare, queste due vie visive contribuiscono ad analizzare due aspetti completamente differenti del nostro mondo. una delle due vie, quella che segue la via temporale è quella che è deputata alla riconoscimento visivo dell'oggetto che stiamo osservando. L'elaborazione dell'informazione visiva si separa appunto dopo la fase di analisi a livello della corteccia occipitale di V1 in questa via temporale e in una via parietale dove avviene il riconoscimento diciamo di dov'è l'oggetto e di come questo oggetto deve essere o può essere manipolato e utilizzato. Quindi queste due forme di elaborazione dell'informazione visiva sono nettamente dissociate e in clinica sappiamo che lesioni specifiche possono portare ad alterazioni ben specifiche. Quindi la visione non è oltretutto un insieme unitario ma è una ricombinazione di queste due fonti di informazione differente su che cos'è l'oggetto e su come questo oggetto può essere utilizzato e interfacciati noi nello spazio rispetto a questo oggetto. Questa è la famosa tabella dei dieci decimi. i dieci decimi rappresentano una sorta di soglia ideale di una visione nitida corretta. In realtà non è neanche così perché sappiamo che una visione adeguata arriva anche oltre i dieci decimi ma la cosa importante è vedere che nella vita quotidiana soprattutto nella vita approssimale questi famosi dieci decimi non vengono utilizzati mai. Un libro per un bambino può essere letto con un visus di due tre decimi, un normale libro non economico con cinque decimi si possono riconoscere benissimo tutti i caratteri che sono stampati. Quindi la nitidezza, quindi il visus, i famosi dieci decimi è nella maggior parte dei casi l'elemento meno importante in una valutazione delle funzioni visive. Purtroppo spesso questo è l'unico elemento che viene preso in considerazione. Quando gli si dice, i colleghi dicono fate una valutazione delle funzioni visive l'ha fatta, il bambino vede dieci decimi, vede bene. Ma vedere bene non vuol dire vedere i dieci decimi, vedere bene vuol dire avere questo che viene dopo. Questo vuol dire vedere i dieci decimi, avere l'immagine nitida sulla retina, l'immagine di un oggetto che viene da lontano. Questi sono i casi che conosciamo tutti, la miopia, miope vede male da lontano ma vede molto bene da vicino senza occhiali. L'ipermetrope vede bene da lontano e da vicino però quando guarda vicino l'ipermetrope deve utilizzare il suo meccanismo di accomodazione. Non vede a fuoco in maniera automatica come vede l'emmetrope, l'ipermetrope deve fare uno sforzo di messa a fuoco per vedere sia da lontano e uno sforzo ancora più alto per vedere da vicino. Ora l'ipermetrope è la condizione fisiologica alla nascita di tutti i bambini. L'accomodazione è il meccanismo con cui noi riusciamo a rimettere a fuoco l'immagine sia da lontano che da vicino. L'ipermetrope non è quindi una patologia, è una condizione fisiologica ma richiede questa capacità di accomodare per vedere nitido e che succede se questa capacità di accomodare non è adeguata e non è rapida e non è veloce nell'adeguarsi alle diverse distanze. Succedono tutta una serie di disturbi che possono essere interpretati in maniera anomala nel momento in cui si fa una diagnosi. Bambini che hanno difficoltà a copiare dalla lavagna potrebbero avere una lentezza esasperata in questo meccanismo di spostamento dell'accomodazione, oltre a tante altre cose. Quello che dico rispetto alla visione non vuol dire che la visione è la causa di tutto, tutto quello che dirò vuol dire che la visione entra in gioco in tutti questi meccanismi e quindi se non sappiamo come agisce la visione potremmo rischiare di commettere delle imprecisioni e quindi andare incontro a quel rischio di diagnosi non corrette sia in termini di falsi positivi che di falsi negativi che sono stati detti prima. Quindi è importante conoscere cosa succede. L'astigmatismo è un'alterazione per cui le immagini vengono distorte per effetto di una simmetria prevalentemente a livello corneale e questo è il meccanismo con cui noi riusciamo a vedere nitido da vicino. Per vedere nitido da vicino utilizziamo l'accomodazione, l'ipermetrope usa questo meccanismo anche per vedere nitido da lontano. Quali sono i movimenti oculari più importanti che entrano in gioco e che dovrebbero essere osservati almeno nelle situazioni di diagnosi. I movimenti di inseguimento, le saccadi e le emergenze. Per valutare i movimenti oculari possiamo utilizzare sia il classico, la classica mira, la pennina, il pallino, ma avremo un'osservazione puramente qualitativa, sia strumenti più complessi come sono i tracciatori oculari, gli eye tracker, che permettono di monitorare con altissima precisione ed accuratezza come si muovono gli occhi. Questo è uno strumento che valuta in binoculare, valuta anche come si muove la testa nel momento in cui sta guardando il soggetto. Quindi tutto quello che vedrete dopo sono registrazioni di situazioni fatte con quel tipo di strumento. Gli inseguimenti. Gli inseguimenti sono quello che facciamo quando un oggetto che abbiamo agganciato visivamente si comincia a spostare nel campo visivo. L'oggetto si muove, noi ci muoviamo per seguirlo. Per poterlo seguire occorre un alto livello di attenzione e occorre soprattutto che questo oggetto sia discriminato dallo sfondo. Non è importante nell'inseguimento visivo che ci sia una massima acutezza visiva. Io posso inseguire bene anche se lo vedo un po' sfocato. L'importante è che riesca a discriminarlo dallo sfondo. Quando è che utilizziamo questo tipo di movimento? Ma questo è il movimento che utilizziamo quando si chiama un oggetto che si muove. Quando dobbiamo prendere una palla, ci tirano la palla, la dobbiamo afferrare, quello facciamo un movimento di inseguimento. Quando scriviamo? Quando scriviamo noi facciamo un movimento di seguire istante per istante dove sta andando la punta della penna. Questo è quello che vedete è la riproduzione del movimento dell'occhio di un bambino che sta osservando un pendolo che oscillava. E questo è un suo tracciato. Cosa ci dice questo tipo di esame? Ci dice che questo bambino in alcuni istanti ha deviato lo sguardo in una posizione diversa dalla traiettoria, la traiettoria alla sinusoide e ha deviato lo sguardo senza motivo e il punto in cui va in basso, il punto in cui il grafico precipita in basso. Il bambino in quel momento ha guardato tutto di lato e poi si chiede che cosa stava guardando e c'era il led del monitor che lo incuriosiva. Quindi certe volte, e poi ci sono altre cose sulla qualità del movimento. Quindi gli inseguimenti sono coinvolti prevalentemente in questi atti di oggetti in presenza costante e continua. Le saccade invece sono i movimenti a salto che facciamo, sono movimenti che facciamo quando dobbiamo spostare l'occhio da un punto a un altro e quindi nell'esplorazione visiva e nella lettura. Sono caratterizzati dal fatto che durante il movimento l'occhio è così veloce che non si riesce a distinguere nulla e quindi avviene un fenomeno chiamato di soppressione. In quel momento durante lo spostamento rapido dell'occhio, l'occhio non trasmette, non viene elaborata visivamente l'informazione, una soppressione saccatica. Noi calcoliamo dove deve andare l'occhio con la visione periferica, lanciamo l'occhio e l'occhio atterra sul punto che avevamo previsto di raggiungere. Se il nostro calcolo, rifacendo all'atterraggio, all'ammartaggio della sonda, se il nostro calcolo è corretto noi andremo a finire con l'occhio nel punto che volevamo raggiungere. Se i nostri calcoli sono sbagliati, noi andiamo in un punto che non è quello corretto. Siccome è lanciato, è come lanciare una palla, quando l'occhio si è cominciato a muovere non si può più correggere al volo, si deve arrivare, vedere eventualmente se abbiamo sbagliato e ritornare indietro. Qua ci sono, ecco vedete cosa succede, avete visto che non sempre raggiungeva il bersaglio, erano dei movimenti abbastanza accurati, ma non sempre raggiungeva il bersaglio, alcune volte anticipava il movimento perché sapeva che era regolare, costante, ma non avendo il riferimento, faceva una sorta di saccade memorizzata e non raggiungeva correttamente perché mancava l'informazione visiva di base. È chiaro che se io ho dei movimenti saccatici disorganizzati, le abilità che si basano su questi movimenti saccatici saranno ancora più disorganizzate. E quando è che utilizziamo le saccadi? Le saccadi ne esistono di vari tipi, appunto volontarie, saccadi riflesse, saccadi spontanee fatte senza guardare nulla di particolare. Quando è che noi utilizziamo le saccadi? Per esempio nel processo di lettura. Nel processo di lettura noi fissiamo un punto, la fissazione di quel punto ci consente di decodificare l'informazione è quello che sta nel rettangolo bianco, ma contemporaneamente con l'altra via visiva andiamo ad analizzare la parte periferica che ci dice fai una saccade e dopo che hai decodificato salta su quel punto che io ritengo la fase successiva della lettura. Gli occhi calcolano e saltano. Che succede se io sono disorganizzato nelle mie saccadi? Che posso arrivare su un punto che non era quello che mi attendevo. Questa teoria delle saccadi come causa della dislessia è stata molto in voga tantissimi anni fa si è visto che non è vero che le saccadi disorganizzati sono la causa della dislessia ma si è visto che le saccadi disorganizzate rallentano marcatamente le velocità di lettura e noi otteniamo dei significativi miglioramenti delle velocità di lettura nel momento in cui miglioriamo il pattern di movimento saccadico. È dislessico? Sì, è dislessico, ma se ha anche questo può sembrare molto più complesso. È un borderline. Con una situazione del genere può diventare un dislessico in termini di velocità di lettura non ha niente, è tutto a posto, ma ha una velocità di lettura molto bassa. Non rientra nel profilo del dislessico ma la velocità di lettura è molto bassa. Che gli facciamo? Se gli fai una diagnosi di dislessia probabilmente sbagli. Probabilmente c'è da valutare correttamente anche questo aspetto. Ci sono vari modi con cui, questa è una lettura sillabica, tutte queste letture vengono fatte in lettura silente, con questo strumento abbiamo la possibilità di vedere anche il pattern di lettura di un bambino senza l'interferenza del fenomeno articolatorio. Quindi non devono parlare, perché altra cosa che si è visto e che sappiamo è che nel momento in cui parliamo la velocità rallenta, quindi dobbiamo valutare anche cosa succede. Vedete tutti questi piccoli passetti, questo è un errore di ritorno a capo, si ritorna a leggere la stessa riga. Questo credo che sia un errore, ho rimesso la stessa slide. E questo è un lettore con un accesso lessicale, un lettore, vedete com'è la lettura corretta? Il lettore corretto fa 5-6 saccati per ogni riga, non si ferma sui puntori, non ferma la fissazione, non va mai sugli articoli, sulle congiunzioni, eccetera, ma si ferma sulle parole di significato. Quello era un lettore, un normolettore, l'altro era un lettore lento, sicuramente era un lettore lento, noi non possiamo fare la diagnosi se è dislessico o meno, io lo so se lo è perché poi hanno anche la diagnosi dietro, ma non lo posso fare dai movimenti oculari. L'avergenza? L'avergenza sono i movimenti che facciamo quando guardiamo un oggetto da vicino, quando i bambini fanno gli occhi storti, quando guardiamo la cosa messa vicino agli occhi. Se voi provate a guardare un oggetto messo molto vicino agli occhi, sentite un fastidio, sentite un fastidio, sentite che è faticoso mantenere lo sguardo su un oggetto a questa distanza. E se doveste continuare a mantenerla a quella distanza, a un certo punto vi stufate di questo stress che sentite sugli occhi, alzate lo sguardo e guardate lontano. Immaginate che ci sono dei soggetti che provocano quel fastidio anche alla distanza normale di lettura. o anche mentre guardano una persona di fronte. Non riesco a mantenere quel livello di divergenza e di convergenza degli occhi per più di pochi secondi perché mi affatica e tendo a distogliere lo sguardo. Tu mi parli ma io guardo da un'altra parte. Anche questo deve far pensare a tutte quelle situazioni in cui si manifestano questi atteggiamenti di fissazione anomala. È un problema legato all'occhio? È un problema legato a qualche altra patologia? Non lo sappiamo. Bambino, ritornando anche a una frase che aveva detto prima Federico, non si fa anamnesi nei bambini. Io più di una volta chiedo al bambino una serie di informazioni. Ti capita mai di vedere doppio? Ci sono tanti bambini, alcuni bambini che rispondono sì perché? Perché per loro è normale vedere doppio, però è un indicatore importantissimo di una scarsa efficienza del meccanismo di allineamento divergenza. Quindi l'anamnesi tante volte non viene fatta. Dici ma ho fatto la visita poche settimane fa, ma non me l'ha chiesto. Perché non me l'ha chiesto? Non deve essere il bambino a dirlo, deve essere chi è interessato a chiedere se succede. E questi movimenti di vergenza li facciamo appunto quando alterniamo lo sguardo fra oggetti a varie distanze. E oltretutto quando guardiamo a varie distanze dobbiamo sincronizzare tutto con il nostro meccanismo di accomodazione. Cioè se io guardo da lontano devo focalizzare, quindi l'accomodazione deve entrare in gioco in un certo modo, quando guardo da vicino devo mettere ancora più a fuoco. Ma deve essere esattamente sincronizzato con la vergenza. Se i due meccanismi si disallineano succedono altri problemi. Vedo nitido ma vedo doppio, oppure vedo singolo ma sfocato. E non decodifico le informazioni quando devo fare la saccade. I due occhi, noi abbiamo parlato sempre della visione in generale, ma i due occhi devono essere perfettamente allineati. Se non sono perfettamente allineati avviene la visione doppia. Ed esiste un aspetto del nostro movimento oculare che è la capacità di tenerli allineati con facilità attraverso questo processo detto di fusione. La fusione serve a tenere sotto controllo quelli che sono dei piccoli disequilibri che sono chiamate le forie. Non sono malattie, neanche queste. Sono delle tendenze, degli occhi a non essere perfettamente allineati. Ma se sono ben controllate non interferiscono con il nostro processo di esplorazione spazio, lettura, eccetera. Se sono più disorganizzate, se sono mal compensate possono disturbare il processo percettivo. E così vale per tutte queste altre abilità, la percezione della profondità, lo span visivo, la quantità di informazione che viene decodificata ogni volta che dopo la saccade l'occhio si ferma su un punto. Quante informazioni riesco a decodificare? Lo span percettivo attentivo. Sono in grado di elaborare tante informazioni, ma su quanto spazio riesco a decodificarle? Uno spazio ampio o uno spazio piccolo? E questo per esempio mi può essere fondamentale per creare un aiuto banale come la riorganizzazione del testo. Allargando la crenatura fra i caratteri, allargando la spaziatura fra le righe, io posso migliorare la velocità di lettura semplicemente attraverso, questo funziona per tutti, modificare la crenatura, varia la velocità di lettura. In alcuni soggetti può essere molto significativo e può dare un grosso aiuto. La disparità di fissazione è un altro problema di disallineamento minimo, questa è una delle più recenti aree di ricerca sul disturbo della dislessia. Una delle forme sembra legata proprio a questi minimi errori di allineamento oculare. L'affollamento percettivo è il fatto di vedere confuso le cose in periferia, se sono ravvicinate o se sono distanti. E quindi riuscire a trovare un oggetto all'interno di una configurazione a secondo della loro complessità periferica. Io adesso vado molto rapidamente perché questa è soltanto una descrizione di come noi possiamo, dobbiamo avere informazione su come vede il nostro paziente. Poi bisognerà combinarle grazie all'intervento di chi ha il quadro clinico completo. Altra cosa è l'automatizzazione di queste abilità perché devono essere totalmente automatizzate e in conclusione i processi visivi devono essere conosciuti per avere la possibilità di fare una diagnosi e stilare un programma riabilitativo il più possibile efficace per i nostri pazienti. Grazie. 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 Grazie.